In questa situazione l'avversario armato è sotto, non facciamo vedere adesso le dinamiche di come siamo arrivati, però può succedere che l'avversario sia andato sotto e io sopra, ok? Siamo in una situazione di presa, ok? Che può essere o presa io dalla mano dell'avversario, o presa lui mano all'avversario, però la cosa principale in questo caso è l'arma, quindi in questa situazione io vado a prendere, che lui cercherà chiaramente, conoscendo la situazione, di uscire dall'effettura del polso, del pollice come abbiamo già spiegato precedentemente. Quindi in questa situazione qua, ok, io andrò sopra, ok, col mio ginocchio sinistro o destro che sia, uscirò da questo, colpirò e andrò a tolgere, ok, il polso in modo tale che poi dopo posso lavorare con il suo coltello a mia disposizione. Ora vediamo un'altra situazione. Lui mi tiene il collo con il suo braccio, ok, io chiaramente ho la situazione sulla sua mano armata, ok, però ho questa molto libera, ok, faccio fatica ad andare a prendere il suo braccio con la mia mano destra, quindi piegherò, mentre piegherò, rozzerò il movimento del suo polso, ok, e automaticamente l'arma verrà persa. Mentre ruoto chiaramente colpisco o colpisco, mantenendo questa impressione, eh, mentre impressione, perché se non hai impressione lui potrebbe uscire, ok, col disarmo che sappiamo già, quindi in questo caso è impressione, chiudo, ok, e mentre chiudo via, ok, esco, taglio oppure colpisco, eccetera, eccetera. Siamo in un'altra posizione ancora? Lui mi prende o con la mano o con il braccio mi prende, io faccio pressione, ok, sempre per quel motivo che se non faccio pressione lui potrebbe uscire e disarmarsi dalla mia mano, ok, faccio pressione, da questa posizione qua metto dentro il mio gomito verso la sua testa che girerò, automaticamente vado verso l'inizio, ok, portando via, ok, il movimento del suo braccio, la posizione del suo braccio e disarmando l'avversario. Da qui o butto via il coltello, o prendo il coltello e colpisco io. Altra situazione, presa, mi porta verso il coltello, entro dentro il gomito, ok, mentre esco girando la sua faccia, giro il colso, ok, prendo l'arma e colpisco. In questa situazione abbiamo l'aggressore dietro che mi punta la lama al collo e con l'altro braccio mi spinge la testa verso la lama. Questo è un aggressore, ok, che conosce l'uso del coltello perché sa che prima arriva la lama, ok, e per ultimo va via la lama. Un altro aggressore potrebbe fare un'altra situazione, questa, ok, potrebbe chiudere di più, ma torniamo a quella di prima. Ok, da questa posizione qua la prima cosa importante è che se io posso dargli quello che vuole, c'è soldi, eccetera, eccetera, glieli do, ok, chiaramente non bisogna fargli eroi. La seconda, ok, se devo lottare per la vita, a questa posizione qua risolverò il problema facendo questo, andando verso il suo gomito destro perché c'è molto spazio. Quindi prenderò, andrò dentro, ok, chiuderò sotto, colpirò, ok, e disarmirò la persona, l'avversario in questa tecnica. Grazie.